Rispetto a un anno fa, rispetto alle nostre idee iniziali di progetto, abbiamo evoluto e raffinato sicuramente quella che era la nostra idea iniziale di appunto costituire un co-living e un hub atto ad accogliere nomadi digitali e smart worker e abbiamo un po' affinato soprattutto anche il modello di business. Sicuramente ci aspetta una stagione di grandi incontri, speriamo, che ci porti a realizzare la nostra idea, soprattutto per quanto riguarda la ricerca anche di bandi, risorse e finanziamenti proprio per riuscire a metterle in pratica e poi anche grazie al confronto che c'è stato con Appennino Lab poter tessere anche tante relazioni e tanti appunto confronti con persone che magari hanno già attraversato quello che è un po' il nostro percorso o anche con persone che magari stanno facendo un po' il nostro stesso cammino e con le quali riuscire a confrontarsi e a mettere in pratica le strategie migliori. Ai futuri partecipanti dell'Academy consiglio di mettersi in gioco, di avere tanta capacità di ascolto da quelle che sono le esperienze delle altre persone che hanno magari già sperimentato questo tipo di percorso e la paura diciamo anche di sbagliare, di lasciarla un po' da parte, anzi sfidarsi, proprio lanciarsi un po' nelle nuove iniziative senza appunto questa preoccupazione, ma anzi proprio imparando da quelli che sono gli errori che sicuramente nel percorso vengono anche in qualche modo evidenziati, ma che è utile che sia così proprio per riuscire poi invece a trovare anche soluzioni o strade innovative che non si pensava magari di riuscire a mettere in pratica prima.